Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video! Parliamo sempre di stufa a legna e in questo caso parliamo di un accessorio e ecco qua di che cosa vi stavo parlando è una ventola che indirizza il calore diciamo in una parte della stanza e quindi se come noi avete la stufa in una posizione diciamo un po' scomora e magari volete indirizzare il calore come in questo caso nella sala noi mettiamo la ventola qua sopra senza toccare magari la ventola qui sopra girata verso appunto la stanza o il posto dove volete che vada il calore ora vi faccio vedere l'abbiamo aperta e è questa qui è una doppia ventola vabbè dal video si vedeva però magari lo specifico guardate e ci hanno regalato anche questo termostato questo qua, quello professionale e ora vi faccio vedere come funziona allora noi avevamo già questa ventola però ad esempio questa è per i vecchi o le vecchie stufe o i vecchi cammini perché appunto andava attaccata al tubo e essendo questa una stufa che non porta tanto calore nei tubi ovviamente non va appunto la ventola se non dopo diverse ore che è già acceso vedete? praticamente canalizza il caldo che c'è lì verso la stanza quindi si dovrebbe disperdere di più e la cosa anche diciamo abbastanza positiva è che è removibile cioè la potete spostare invece magari quella che avevamo noi in precedenza è lì doveva stare perché non si poteva spostare quindi ecco qua voilà con la mia stufina e con la mia ventolina vi saluto e ci vediamo al prossimo video spero che anche questa volta di esservi stata utile ciao e anzi vi voglio ringraziare perché il video della stufa ha fatto un sacco un sacco di visual grazie 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 ciao al prossimo video ciao